Digiunò per 40 giorni e 40 notti. Matteo 4.2 Di Claudia del Valle Il numero di 40 giorni previsto per la Quaresima non è stabilito dagli uomini, ma consacrato da Dio. Esso non è il risultato di considerazioni terrene, ma è ordinato dalla Celeste Maestà. I richiami biblici al numero di 40 sono molteplici, ma a noi interessa guardare al Divin Modello che ha digiunato nel deserto per 40 giorni e 40 notti. Questo sacro tempo di penitenza, vissuto dal Signore sulla terra, aveva la funzione di causa esemplare per noi, viatori in questa valle di lacrime, in continuo pericolo di peccare e deviare dal retto sentiero che conduce a Dio. I padri della Chiesa hanno espresso unanimamente e con diverse sfumature l'importanza del digiuno. Dice ad esempio San Pietro Crisologo E ancora Sant'Ambrogio risponde così alle eventuali obiezioni contro il digiuno. La carne, per la sua condizione mortale, ha alcune sue concupiscenze proprie. Nel loro confronti ti è stato concesso il diritto di freno. La tua carne è sotto di te. Non seguire le sollecitazioni della carne fino alle cose illecite, ma frenale alquanto anche per quanto riguarda quelle illecite. Infatti, chi non si astiene da nessuna delle cose illecite è prossimo pure a quelle illecite. In un sermone, San Giovanni Crisostomo parla di medicina del digiuno che il nostro filantropico Signore, da Padre amorevole, escogitò per noi. Siccome volentieri l'uomo, dando libero sfogo alla sua natura, si lascia andare a piacere e non sa contenersi nella giusta misura, allora deve sempre tornare a digiunare per liberarsi interiormente dagli assilli per le faccende di questo mondo e potersi rivolgere alle cose spirituali. Cassiano ritiene che troppo cibo ottunde il cuore e, se lo spirito ingrassa come il corpo, allora attizza della maligna esca per il peccato. Infatti, come spesso ripetevano gli antichi, molto cibo assopisce la vigilanza spirituale dell'uomo. Questo principio ricorre di continuo negli scritti dei primi monaci e dei padri della Chiesa. Dice ad esempio Sant'Atanasio Vedi dunque cosa fa il digiuno, guarisce le malattie, libera il corpo dalle sostanze superflue, scaccia gli spiriti maligni, espelle i cattivi pensieri, dà allo spirito una grande chiarezza, purifica il cuore, spiritualizza il corpo, in una parola fa accedere l'uomo dinanzi al trono di Dio, Grande forza è il digiuno e porta a grandi vittorie. Ma Sant'Atanasio non si ferma solamente all'efficacia del digiuno sul corpo. Secondo lui il digiuno scaccia gli spiriti maligni, espelle i cattivi pensieri e induce una maggiore chiaroveggenza dello spirito. Pulifica dunque corpo e anima insieme, divenendo un mezzo ascetico di straordinaria efficacia. Nei suoi sermoni anche San Basilio Magno sottolinea di continuo l'efficacia salvifica del digiuno sul corpo e sull'anima. Rammenta come i medici prescrivevano il digiuno ai malati e come un corpo che si contenta di un'alimentazione parca e leggera eviti le malattie meglio di un altro che invece esagera in cibi pesanti, di difficile assimilazione. Nei conclude che il digiuno è un'efficace medicina contro il peccato. Si deve essere contenti d'avere questo rimedio per il peccato e perciò con spirito lieto si deve digiunare invece di darne spettacolo per apparire grandi asceti dinanzi agli altri. Altrimenti il digiuno non serve. San Giovanni Climaco attribuisce al digiuno analoghi effetti. Il digiuno blocca il profluvio delle chiacchere, allevia l'inquietudine, favorisce l'ubbedienza, rende gradevole il riposo, sana i corpi, placa gli animi. Soltanto discordia proviene invece dall'intemperanza, dall'imperversare delle passioni e degli istinti. Il digiuno obbliga l'uomo alla disciplina, lo libera dal predominio delle sue passioni e così gli dà intima pace. Una pace che non è puramente spirituale, ma anche dei corpi, come dice il crisologo. Il corpo sa quieta, sia perché non più sfiancato da pesanti digestioni, sia perché i suoi istinti vengono imbrigliati. Nei padri della chiesa il digiuno non è pura disciplina esteriore, un'opera di cui ingemmarsi davanti a Dio, ma un salutare esercizio, una benefica pratica che deve guidare tutto l'uomo, corpo e anima, al dominio delle passioni per avvicinarsi sempre più profondamente e meno indegnamente al suo ottimo Dio.